Io che sono credo la persona meno adatta a rassicurare le persone, però in questo periodo, strano ma vero, è proprio questo quello che vogliono da me le aziende e gli imprenditori in generale. Qualche settimana che ricevo telefonate del tipo, dice sì pronto, sì pronto, segui Pedro? Sei un grande, sei veramente un grande, no sei un grande perché, ah grazie, no perché io sono un imprenditore, lavoro nel settore del turismo e siamo messi male, ripeto siamo messi male, ci dai da una mano, bisogna fare una call insieme a un webinar, come va di modo da ora, dove tu ci dai tirare un pochino su di morale, ma su di morale amico, ma io su di morale, no a te tu ci puoi raccontare qualche storiella, qualche storiella ma, sono mio un clown, perché tu mi hai preso? Ah vabbè dai, grazie allo stesso, sei comunque un grande, anche te, grazie. Attacca, passa due o tre giorni, gli chiamo un atto, dice sì pronto, ui Pedro? Purtroppo sì. Eh guarda, mia nonna ti adora, veramente, è pazza di te, grazie, ha 95 anni, non vede, non sente nulla, poi era donna, cammina un giorno sì, un giorno no, però ti adora, veramente. Io sono un imprenditore, lavoro nel mondo dell'immobiliare e siamo rovinati, siamo tutti in cassa integrazione e ci piacerebbe fare una call con te su Zoom, almeno tu ci tiri un pochino su di morale, anche te, ma amico mio, ma io fommiamo questo di lavoro, io ti posso fare uno spogliarello, ma sono anche piccino, scuro, non so quanto possa essere utile. Ma te tu ci puoi raccontare delle storie su Firenze, su come si è risollevata dopo le catastrofi che l'hanno colpita nel corso dei secoli? Buona idea, però si può fare meglio, secondo me, perché se si parla della città siamo troppo generici, ci si può perdere. Parliamo invece del singolo, parliamo della persona. Lorenzo in Magnifico, per esempio, in Magnifico, non il grande o il mitico o i bombe, cioè in Magnifico, quest'uomo per essere chiamato in Magnifico qualcosa di grande l'avrà fatto nella sua vita, no? Partiamo dal nome, perché Lorenzo in Magnifico? I libri di storia ci insegnano anche in maniera un po' formale e noiosa che il titolo di Magnifico Messere veniva dato ai signori di Firenze, a chi governava, una volta raggiunti 45 anni d'età. Lorenzo però muore a 43 e diventa signore di Firenze a 20, quindi lui già a 20 anni era in Magnifico, lui aveva bello e vinto, poteva stare sul divano con le pantofole tutta la vita e rimaneva comunque in Magnifico, no? Invece volle strafare a tutti i costi. Uomo di grande cultura, uomo di grande carisma, di grande carattere. Oggi diremmo di Lorenzo in Magnifico di un grande comunicatore, sai Ted X avrebbe fatto Lorenzo in Magnifico, 40 minuti più recupero, dice ma noi solo 18 minuti, c'è le regole dalla California, no no no, che regole? A me ne frega nulla, io sono in Magnifico, io sto anche un'ora a ragionare e esco fuori anche dai cerchi rosso. Quale fu però l'evento che segnò per sempre la vita di quest'uomo? La morte tragica del fratello Giuliano, avvenuta con la famosissima congiura dei pazzi, no? Quest'attentato ideato dalla famiglia dei pazzi, un'importante famiglia di manchieri fiorentina, che con l'aiuto, con l'appoggio del simpaticone Papa Siso Varto, provò a ribaltare il potere a Firenze. E fu così che il giorno di Pasqua, del 26 aprile 1478, dentro il Duomo di Firenze, dentro la cattedrale Santa Maria del Fiore, si concretizzò questa congiura, che però riuscì soltanto in parte per chi morì soltanto Giuliano. Lorenzo miracolosamente riuscì a salvarsi, anche grazie all'aiuto dei suoi amici più stretti, poliziano, più che della Mirandola. Addirittura Francesco Nori si sarrificò per Lorenzo, perché si prese la coltellata e il posto suo, cioè si mise in mezzo, tipo film d'azione, no? Lorenzo si ferì soltanto al collo. Da quel momento delirio tutto tale, perché il Papa Sisto Varto, quello di prima, quello simpatico, prima scomunicò Lorenzo e poi dichiarò guerra a Firenze. La situazione in Italia era completamente ingestibile. Serviva quindi la giocata del campione, no? Nel mondo del calcio si direbbe ci voleva la giocata del fuoriclasse. E fu così che Lorenzo in magnifico, in gran segreto, in maniera totalmente inaspettata, partì per Napoli per convincere il re Ferdinando ad allearsi con lui invece che con il Papa. Qui simpatico non si è visto prima. Un'impresa insomma tutt'altro che semplice, anche perché prima andare a Napoli non era come ora. Tu vai alla stazione, tu pigli il treno, ti arrivi a Napoli, tu vai dai re, tu chiacchiari, ripigli il treno, all'otto tu sei bello a Firenze, bello è fatto, no? No, mezza giornata ha fatto tutto, no? Prima andare a Napoli era veramente un'impresa. In più si aggiunge il fatto che chi ti aspetta, Ferdinando, ha la bellissima abitudine di sgozzare i suoi ospiti. Capito? Li fa venire al palazzo, dice venite, venite, si fa la pace e poi nella notte coltellate a destra e a macca, che non so come si traduca. Incredibilmente però Lorenzo ce la fa. Dopo tre mesi di trattative estenuanti, grazie alla superlantina che quando partiva non si fermava mai, riuscì a convincere Ferdinando ad allearsi con lui invece con il Papa. Lorenzo quindi torna a Firenze con la pace in tasca, con la pace in saccoccia. Accolto come un eroe, accolto come il salvatore della patria. In Machiavelli, Niccolò Machiavelli scrive una frase secondo me bellissima su questa vicenda, dice, avendo esposto la propria vita per rendere alla patria sua la pace. Questo vuol dire che Lorenzo era pronto a sacrificarsi per Firenze, era pronto a sacrificarsi per la pace. Con quella mossa Lorenzo dette scacco matto al Papa, diventando l'uomo politico più importante del Quattrocento, guadagnandosi il rispetto di tutti gli altri grandi, gli altri signori, gli altri potenti d'Italia, che rimasero come intimoriti, come spaventati da questo gesto, perché non se l'aspettava nessuno. Pensare che i congiurati quel giorno di Pasqua lo volevano uccidere, lo resero più magnifio che mai. E facciamo un salto in avanti di 600 anni circa. Il protagonista della nostra storia stavolta è Wigipedro, che sarei io, piccinosi, un Wigipedrino, che ha la passione per la storia, per l'arte, ama la sua città, però si trova, è giovane, si trova a lavorare come camerale in un ristorante, però si trova bene, si diverte, ho trovato il suo ambiente. Addirittura mi scrivevo il menù sulle magliette, arrivavo al tavolo e la gente mi diceva il menù? No, il menù è che? Non è quello che è il menù. Sono il menù. E rimanevo un quarto d'ora, venti minuti a parlare con la gente finché 11 anni il piatto. Tra l'altro idea geniale, segna tra se tu c'è un ristorante, anche un bar perché tu svolti. E improvvisamente, un giorno, all'improvviso, spariscono duemila euro dalla tasca del giubbotto dei proprietari. Arriva polizia, FBI, carabinieri, guardia di finanza, l'ispettore gadget, Sherlock Holmes, arrivano tutti. Dopo una settimana di indagini, Wigipedro viene incolpato. Se stavo te. Perché io? Ma io era a lavorare. Le prove? Le prove non ci servono, se stavo te. Perché te tu sei troppo furbo, tu sei troppo svelto, tu sei troppo veloce. E quegli altri? Quegli altri sono lenti, non avrebbero mai potuto farlo. Ah, quindi se sono sveglio vuol dire che sono anche un ladro? Sì, va via. E mi mandarono via. Tornare a casa, disperato, pianti, sbraiti, mi strappava pelli, vestiti. I miei genitori, i parenti in generale, gli amici iniziano a fomentarmi, no? Denuncialo, rovinalo, chiudigli il locale, lavoravi anche a nero e tutte le carte in regola per rovinarlo. Io sentivo che dentro di me c'era questa zona, sentivo che c'era qualcosa che non andava. I miei sentimenti non erano allineati completamente, no? È importante ascoltare il proprio corpo perché ci manda e segnali giusti. Ah, dopo un paio di giorni me ne uscii dicendo, ma perché io mi devo concentrare su di lui? Perché io devo concentrare il mio focus su sentimenti totalmente inutili come l'odio, la vendetta, il rancore, la rabbia? Sentimenti non servono a nulla. Quando qui la cosa veramente importante sono io, sono io che mi devo risollevare da questa situazione. La svolta per me quella volta fu accettare la sofferenza e non rifiutarla. Accettarla come fosse un sentimento normale. Siamo esseri umani, ovviamente istintivamente rifiutiamo il dolore sia fisico che mentale, ma nel momento in cui capiamo che la sofferenza può essere trasformata in energia positiva, allora non ci ferma più nessuno. Diventiamo imbattibili e è così che mi sento quando faccio video. Mi sento un animale, mi sento un leone, mi sento e sto tirando fuori al 100% il mio carattere e la mia personalità. Ma sono arrivato a questo punto, a questa consapevolezza, soltanto grazie ai fallimenti e alle sofferenze precedenti. Non esisterebbe nessun Wiggy Pedro oggi se non avesse fallito prima come studente, poi come calciatore, soprattutto come calciatore, perché ce l'avevo le qualità per arrivare. Ce l'avevo, lo diamo tutti quelli che smettono, ma io ce l'avevo davvero, non mi mancava niente. Però me la facevo sotto, tra un campo mi tremava le gambe, ero il classico giocatore del giovedì, io il giovedì ero fortissimo, ero la domenica, facevo schifo. Un mio allenatore mi diceva, per motivarmi, un uomo in bocca a un altro non si è mai visto. Io lo farei vedere oggi, che se mi si parla davanti a qualcuno mentre faccio il video me lo mangio. E questi sono tutti concetti, pensieri che io ho elaborato anche di recente nel video che ho fatto per il primo giorno di scuola, l'apertura delle scuole dopo la pandemia, un giorno per me molto importante, e mi era stato chiesto di dare un messaggio agli studenti, ragazzi, ma che messaggio potevo dare io? Cioè io ero uno studente mediocre, io che se gli studenti vedessero il mio esame in maturità butterebbero via il telefonino. Quindi bisogna che dia un messaggio che rientri nelle mie corde. Quindi oltre a dire questo concetto della sofferenza, ho cercato di dirgli di iniziare fin da subito a porsi le domande interne in maniera corretta. Per me le domande interne hanno fatto la differenza. Quali sono i tuoi talenti? Quali sono le tue qualità? Cosa ti piace? In cosa puoi essere diverso? Vediamo qui Pedro allora, come esempio. Quali sono le sue qualità? I suoi talenti? Allora, nella mia faccia, è simpatico, mediamente simpatico, sa parlare, sa parlare, sta con la gente, è smart, è veloce, è svelto. In America quando andavo in California mi dicevano, you are smart. Non è tanto, però non tanto, qualcosa sei trovato. Cosa ti piace? Mi piace il cinema, mi piace l'arte, mi piace il mondo del teatro e sono innamorato pazzo della mia città. Mi piace raccontare storie sulla mia città. Buono. E in cosa puoi essere diverso da quegli altri? Io di lavoro affitto un appartamento a turisti, tutti si limitano i miei concorrenti a mettere le foto del divano, della cucina, della camera dal letto sui vari portali. Io potrei iniziare a fare dei video, gratuiti chiaramente, facendo conoscere Firenze, dando informazioni utili sulla città e magari convertire le persone che guardano i miei video in clienti per l'appartamento. L'ho svoltato, mi misi il proposito, l'ho svoltato, sono un grande. Operazione fallimentare chiaramente. Però il mio cervello era partito, aveva iniziato a produrre qualcosa. Poi lascia fare se sono buone idee o cattive idee, però il tuo cervello è partito, è entrato in moto con queste domande interne, poste nella maniera giusta. E questo per me è stato molto importante. Mi rendo perfettamente conto che il periodo che stiamo vivendo è un periodo difficilissimo, forse il più difficile di tutti. E le parole che abbiamo detto oggi, tutti, sono molto belle, ma possono essere anche fini a se stesse per le persone che hanno grossi problemi da risolvere. Soprattutto problemi reali e imminenti. L'altro giorno ero sul Ponte Vecchio e una signora, una gioielliera, mi si è messa a piangere davanti. Quindi io gli posso raccontare tutta la storia dei medici, dai prima all'ultimo. Però la signora sarà difficile da tirarla su, no? Però io sono convinto che se superiamo tutti insieme questo periodo, allora veramente non avremo più paura di niente. Abbiamo la possibilità adesso di diventare magnifici davvero, proprio come Lorenzo, che quella volta seppe trasformare a suo vantaggio un episodio drammatico come la morte del fratello. Ma se ci pensiamo bene, tutte le grandi imprese del passato nascono da delle delusioni. Perché Pippo Brunelleschi, quando fece la cupola, non gli andò tutto liscio come l'olio? Cioè arrivò dalla commissione e disse, ah, tieni il progetto, questo è il progetto. Ah, beh, il progetto, bravo. Tu puoi iniziare i lavori, vai, tieni i soldi, cappuccio e brioche, vai, divertiti e fa la cupola. Glielo bocciarono il primo progetto, bocciato, e gli dette anche di pazzo. Va a casa, chiudi, ta chiave per benino, Pippo, e butta via la chiave. Ma lui, tranquillo, sereno, sapeva che quella era la strada giusta, il suo sogno era giusto, Brunelleschi aveva il sogno giusto, era solo questo nei tempi. Infatti, poi è realizzato in soli vent'anni, credo la più grande opera architettonica della storia. Quindi questo vuol dire che i grandi del passato ci insegnano che i risultati più importanti si ottengono dopo delle delusioni, dopo delle sofferenze. Perché quanto è bella la giovinezza, che si dice tuttavia, chi vuole essere lieto sia del domani, non c'è certezza. Grazie.